Due palazzi storici nel cuore di Roma cambieranno pelle. Qui a Piazza Verdi, questo mastodontico edificio dai marmi bianchi, ex Zecca dello Stato, si trasformerà in un hotel di extra lusso, di 25.000 metri quadrati, alto quattro piani, con 250 appartamenti di pregio più negozi che occuperanno 4.000 metri quadri su 60.000 e avrà come carta d'identità l'ingresso maestoso. Ma quale sarà la catena alberghiera che conquisterà la casella d'oro, in realtà si saprà soltanto dopo una gara. A giocarsi la partita saranno comunque in molti e tra i più gettonati c'è la catena alberghiera internazionale Four Seasons. L'altro edificio storico si trova invece a Largo Santa Susanna ed è l'ex istituto geologico che doveva diventare una casa per le nuove tecnologie e invece diventerà anch'esso o un hotel o uno spazio per negozi di lusso o uffici con tanto di area parcheggio e un'area archeologica. La mega operazione parte da Fintecna Immobiliare, la società controllata dal Ministero dell'Economia che prima compra dal De Manio l'ex zecca di Piazza Verdi e l'ex sede dell'istituto geologico poi lancia una gara per trovare costruttori privati che concorrano per il 50% all'affare.